Oggi vi presento una chicca. Vi era tanto piaciuto il mio semenzaio fatto in casa lo scorso anno con il tappetino riscaldante, le luci, le vaschette e quant'altro. Ho trovato un kit abbastanza economico, veramente siamo sotto 50 euro, più piccolo ovviamente di quello che avevo io, ma pronto per fare più o meno le stesse cose. Quindi ve lo presento in questo video, non è un video sponsorizzato, l'ho acquistato su Amazon e ve ne parlo dopo la sigla. Riecaoci sul canale. Allora vi mostro qualche immagine di ciò che ho fatto io lo scorso anno. Ora siamo a dicembre, tenete conto che tra un mese io comincio a mettere i peperoncini, quindi ci siamo quasi. Questo vi permette di fare una cosa simile, ovviamente con alcuni pro, con alcuni contro, li vediamo insieme, ma nel piccolo questo veramente è molto interessante. Quando ho visto questo kit su Amazon me ne sono innamorato, gli ho fatto il filo per un buon mesetto e alla fine ho deciso di acquistarlo. Allora intanto vediamo cosa comprende il kit. Il kit comprende 5 vaschette da 12 alveoli l'uno, sono già forati sul fondo per evitare il ristagno dell'acqua e questo mi è piaciuto molto. 5 contenitori sigillati in cui puoi mettere gli alveoli. Ovviamente 5 coperchi da chiudere, poi il tutto, ecco qui. Qui vedete c'è la sede già preforata e prestampata per mettere poi i led, ecco qua. Questi sono i quattro led a luce bianca con l'aggancio centrale e tutta l'elettronica di controllo da poter poi infilare all'interno del foro e viene una cosa del genere. Io l'ho fatto prima, ecco qui, vedete? Non si muove più. I led vengono alimentati da un caricabatteria da telefono che non è fornito in dotazione, quindi voi il carichino, adesso lo stacco, vi faccio vedere, il caricabatterie simile a questo, va bene per tutti i telefoni, lo dovete avere voi. Il cavo in dotazione si sdoppia in 5 fili, in 5 cavetti di alimentazione a sua volta, per collegare tutte e 5 i faretti led. L'ultima cosa che viene data nel kit, che trovo veramente molto interessante, è il tappetino di scaldante. Io l'ho acceso poco fa, il tappetino è appena sufficiente per alloggiare le 5 confezioni, qualcuna ne rimane fuori, vedete? Qualcuna invece si prende soltanto a metà, però tutto sommato si riesce a dare un tepore interessante a tutti quanti gli alveoli. Ora facciamo un po' di spazio, cominciamo le misurazioni, questo l'ho acceso 10 minuti fa, 31 gradi. Tenete conto che per la germinazione dei peperoncini, dei peperoni che sono i più duri, più ostici, che richiedono più temperatura per germinare, ci vogliono almeno 25 gradi, qui ne abbiamo 31, va più che bene, tenendo anche conto che le vaschette non vengono appoggiate completamente sopra, quindi noi avremo una parte che sarà esterna perché non ci stanno tutte e 5 completamente. È dotato di un termostato interno, attacca e stacca da solo, è a 220 volt e questo è completo già ovviamente di spina, attaccate la spina e lui funziona. Questo se lo lasciate acceso è acceso giorno e notte, però appunto col termostato interno lui regola da solo la sua temperatura. In dotazione poi ci sono ancora dei segni a piantine, ce ne sono 10, e due attrezzini, insomma per lavorare dentro gli alveoli. La cosa che vi volevo far vedere, che è molto interessante, adesso la spengo qui, faccio vedere, c'è la possibilità di chiudere o di aprire i fori superiori della vaschetta, semplicemente ruotando i led. Quindi a seconda di ciò che vogliamo fare, dell'umidità che vogliamo mantenere all'interno, possiamo variare un attimino la fuoriuscita dell'aria e anche questo lo trovo veramente molto comodo. Allora, difetti, secondo me, è giusto che ci sia il foro in fondo, va benissimo, però l'acqua in eccesso poi si depositerà in questa vaschetta, quindi periodicamente bisogna controllarla e svuotarla, perché sennò fa la muffa e tende a far marcire le radici che escono da qui. Bisogna solo un attimino fare attenzione all'irrigazione, come sempre. Tenete poi conto che la parte riscaldante asciuga molto l'acqua, quindi bisogna fare attenzione a mantenere sempre il giusto tasso di umidità all'interno. Non ho ancora avuto modo di provare a vedere se la reazione interna, se lo scambio d'aria è sufficiente con questi quattro fori, non lo so ancora perché sto presentando il prodotto, però mi è piaciuto veramente tanto perché è possibile cominciare a fare piccolo semenzaio, parliamo di 60 piantine, non sono molte, però se uno non ha molte esigenze, davvero con un kit del genere si riesce a fare un bel lavoro sicuramente. Come vi dicevo il kit è completo di tutto, manca soltanto il caricabatterie del cellulare, ma in casa ormai ce l'abbiamo a Iosa, perché ogni volta che cambiamo il cellulare, fino a poco tempo fa ci davano anche il caricabatterie e il vecchio caricabatterie lo mettevamo nel cassetto e quindi lo possiamo utilizzare. Non ho trovato i dati di targa del consumo di corrente del tappetino, purtroppo non ci sono neanche sul sito del produttore, però tenete conto che il tappetino è molto piccolo e arriviamo a 30 gradi, 31 gradi, consuma veramente pochi watt, secondo me saranno 20-30 watt, non di più. L'ultima cosa che vi raccomando, se utilizzate questo kit, oltre al caricabatterie dovete munirvi di un temporizzatore, perché le piante hanno bisogno di un ciclo di luce e di buio, ovviamente, io facevo 16 ore di luce e 8 ore di buio, quindi dovete acquistare un temporizzatore del genere, costa 8-9 euro, veramente una sciocchezza, anzi questo l'avevo pagato forse meno di 7 euro, sempre su Amazon spedito, impostate l'orario e mettete le 16 ore di luce di giorno e le 8 ore ovviamente di spento, luce spenta di notte, questo è importante, dobbiamo dare loro anche il tempo di riposare, insomma, nelle ore notturne. Detto questo, a me è piaciuto molto, con meno di 50 euro potrebbe essere anche una buona idea a regalo per il Natale che verrà, anche per se stessi, ovviamente. Ve lo consiglio, ve lo raccomando se siete le prime armi, poi se magari vi piace, non avete mai provato un'esperienza del genere, potete cominciare ad acquistare tappetini più grandi, alveoli più grandi, vi lascio qui in sovrappressione quelli che sto usando io, fare dei tavoli più grossi di germinazione e quindi le cose poi piano piano prendono il via da sé. Bene, spero che questo video vi sia stato utile, forse non lo conoscevate questo kit, vi ringrazio per essere stati come anche oggi, mandate questo video ai vostri amici o a qualcuno che magari ha questa passione, si sta avvicinando adesso al giardinaggio, tra un po' gennaio e febbraio cominciamo a fare gli alveoli riscaldati, quindi la sera riscaldata, quindi siamo nel periodo giusto, insomma. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.